Una telefonata, attenzione, c'è una bomba nella scuola. Mattinata movimentata alle medie e barsanti di Pietrasanta. Intorno alle 9 è scattato l'allarme per la presenza di un ordigno. Allarme risultato per fortuna falso. La chiamata è arrivata intorno alle 9 al centralino della scuola di Piazza Matteotti, accanto al municipio. Subito sono scattate le misure di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare tutti gli studenti, circa 800 ragazzi. Anche l'istituto tecnico commerciale Don Lazzari, adiacente, è stato coinvolto, con alunni usciti in strada e raccolti al vicino stadio comunale. Ho contattato i carabinieri di Pietrasanta e loro si sono consultati, mi hanno richiamato e mi hanno detto di procedere all'evacuazione come fosse appunto una emergenza a cui sono abituati i ragazzi. Era già successo? Mai. Nessuna bomba è stata trovata nella scuola. Una volta abbonificati tutti gli ambienti, interni ed esterni, i ragazzi sono rientrati in aula. In molti erano stati riportati a casa dai genitori e le lezioni dunque sono proseguite a singhiozzo. Sul falso allarme stanno indagando i carabinieri. I militari cercheranno di capire chi sia stato l'autore del falso allarme, che ha causato l'interruzione delle lezioni e qualche momento di preoccupazione per insegnanti e genitori.